Il pedonese è sempre fortunato o non c'è perché viene? Io non lo so, era infortunato però se... È sempre fortunato il pedonese? Sì, cioè non sta bene. Sì, è entrato male, ma è entrato. Tutto ripeto. Tirerò prima o poi. No, è entrato bene, bene, bene. Hai preso? No, l'hai preso. No, l'hai preso. Un po' a sinistra, l'attezza l'ha fatta. Un po' a sinistra. Grazie Vai Vai Bravo 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 Grande Oh Quella nocce ora può fiscare Raffa Manassare Ficot Ficot E' inoltre Faccio Un servico Un servino Un servino Un servo il pedonesi è sempre fortunato o non c'è perché dire? credo sia, io non lo so, era un fortunato però se... è sempre fortunato il pedonesi? sì, cioè non sta bene ciao 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 bravo 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 di là di là di là andiamo bene però liberato chi è lui? un genio di raggi Grazie 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 Vado unico! Vado unico! Vado unico! Vado unico! Vado unico! Vado unico! Come andate giù Francesco, ce l'avete presa a fare le squadre! Qua! Ehi! Qua c'è la faccia! Sì per gioco! Sì, insomma, che sarà lì, c'è l'unità mia. Vai, Lico, vai, Lico, vai! lunghissima ma dai qui bravo Fai via, pompa! Guarda l'11 Guarda l'11 No, non vero La non deve Sì, è un gioco Buona Grazie a tutti. 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 Vai. Grazie a tutti. 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 non ti muovere Marco, non ti muovere Non ti muovere, 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 non ti muovere è scivolato la vita eeeh bravo dai oh ancora ancora fai come cazzo si pare eeeh chi è pietonesi eeeh 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 ma le levi quelle mari di lì eeeh 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 così fai anche la figura di me viene uno, ti dà due sciaffate e fai anche la figura di me no, Dio, Cristo va bene, va bene va bene, va bene va bene vai dai, 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 corri corri, corri su tutti su, tutti soli meno male che hanno sbagliato bravo, bravo e buona vai Luca, vai ciao bravo, il difensore vai 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 buona vai vai no 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 è un difensore sei un difensore basta è un difensore l'episodio di Luca di Luca di Luca era perfettamente in linea insomma, allora è l'abito a questo punto un po' dai Luca però guarda che dirigore c'è è l'abito, eh non so neanche si che è è l'abito bravo bravo però un po' è l'abito ma non serve no oh, le mani oh ma bravo ma vieni sulla linea qui bravo 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 vai ma tu solo vai vai buona buona e che ora ce ne abbiamo quattro in avanti Meno male che... No, che è una bella finta però... 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 No, che è una bella finta... 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 No, che è una bella finta...